Salve a tutti ragazzi e benvenuti, aspetta che vi faccio vedere, ok, mi sentite quasi? Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, oggi siamo scogliati Perché sì, però oggi andremo a costruire la casa dei colori E perché andremo a costruire la casa dei colori? Perché sì, perché sì, ecco Ok raga, allora andiamo a costruire la casa dei colori, che la costruiremo lì Quindi ci servirà spianare un pochettino, anche perché io ho preparato soltanto per i video e non ho spianato un cavolo Spero che non si giri completamente la visuale perché sennò sarei costretto a dire cose brutte Cioè avete capito il senso E ok, allora io direi di non prendere tanti blocchi Sono andato in giro per i villaggi, ho separato un sacco di cose Intanto io vicino casa, ho un altro villaggio Quindi la terra che prenderemo La useremo anche per fare la casa Un'antitola del look che ho già preparato tutto Ok, allora Mi basso un po' il volume che sennò Ora va meglio Per me, perché io oggi ho le cuffie Quindi ora non so nemmeno se mi sentite bene Vabbè Sembra come se sto facendo una live e invece un video Allora raga, vi stavo dicendo Faremo la casa colorata E quindi sarà Di diversi colori Avremo tanti strati a disposizione Però Volevo vedere se c'era Anche quella Il Kenya Volevo vedere se c'era Così mi pigliavo un sacco di colori Però Non lo so Forse oggi Andrò ad esplorare Quindi poi Allora Poi conferiremo anche la chiesa E La casa del noob Dobbiamo ricostruire Il centro commerciale I hangar Quindi ci vorrà un sacco di tempo I hangar quando saranno pronti Vi arriverà la notizia Sì Perché Sì Allora Nel notiziario Io Non si Che arrivo Beh E basta Ok Continuiamo Non dovrebbe arrivare l'altro Perché arriva l'altro Oh 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 Non so se la continua Dove dire Un villaggio Che ci succede Che c'è una stava lì Sì lo so Manca anche a me La vecchia Vanilla Però Capace Potremmo Potremmo Ottenere questa Che sta venendo Meglio What? Va bene Ok No aspetta Allora Dobbiamo Allora Speriamo un po' che a meno metto un po' di terra, perché almeno ci vediamo. Devo cambiare un po' la pala, però che cavolo! Vabbè. Ok, iniziate un po' a costruire. Allora, oggi è la giornata. Allora, oggi è stato un po' di qui, a presto, da quelli che si hanno affermare. Probabilmente, diciamo, sono fatti un po' di qui, sono fatti un po' di loro. Siamo fatti un po' di loro. Tu olli, all'inizio, il caso. Con個人ali, cari ragazzi, cari ragazzi, che oltre si faranno a una scelta di corsa, di tanti colori. non so se con fortuna comunque aver trovato il villaggio allora come dicevo è stata una fortuna non lo so speriamo che voi non sentite niente non so se non so se non so non so se non so se non so è la madonna ok allora se io devi fare l'allocicato giallo un pavento avevo un altro vento me li faccia e i tô un c'erano questo qui e poi una volta che troveremo anche un po' che è finita non so come si pronuncia, non mi ricordo e poi una volta che lo troviamo ci vediamo e poi ditemi cosa ne pensate a me sta piacendo anche perchè dentro sono tutto un po' l'occasione scrivete nei commenti faccio comunque siamo arrivati ho notato, ho notato siamo arrivati a 35 ora tra un poco avrete passi dal speciale vedete il speciale che vi faranno per tutti voi però, però prima dello speciale vi voglio dire questa cosa era da quando avevo pensato un po' al Prentesi in iscritto il risultato è quello di decidere voi che gioco fare è se fare un video o una serie il gioco direte che volete se volete vedere un video o una serie ma il gioco che volete prima ve la scelta poi scegliete se fare un video o una serie ovunque io ho avuto un video almeno per te dopo quel video poi deciderete voi cosa fare e vabbè allora qua dovrebbe essere finito domani facciamo il tetto ora ormai allora andiamo a letto e poi domani ovviamente non ho messo i mostri perchè guardate che mondo cioè se ci fossero stati i mostri i clipper mi avrebbero fatto saltare tutto ci sarebbero stati i buchi quindi le buchi non so chi ti ha detto di cadere o ma chi ti ha detto di cadere ma va ma va va qui è qua è qua ok allora raga io dico di andare andare a fare qui così 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 ok è un po' alto potremmo farci un palazzo allora siamo la nostra scavatrice qua non servono più le mod guardate che questo è già Minecraft comunque allora quando comunque sono riusciti ad aspettare Minecraft vedetevi non vi vedete perchè perchè tornerà chiediamo che la serie andava bene la serie dove costruivamo quello che si chiama quindi tornerà tornerà breve vediamo perchè ora non so il telefono cosa in questi giorni sta dando un po' di problemi il mio secondo telefono questo telefono quello lì i video li rivedrete tra un po' di giorni anche perchè mi rambo i video già fatti come quelli quelli poi non lo so se se il telefono mio tornerà nel nostro caro amato canale allora questo qui e poi posto di questo poi metteremo uno uguale o uno più colorato ok allora il pezzo il pezzo si è un po' vuota ma poi la faremo facciamo la spianetta così cosa che poi resterà con il modetto qui ci sarà un po' di grano il pezzo tutto meglio tutto meglio io ora pensiamo un po' di grano siamo un po' di grano un po' di grano penso che la scalinata però la 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 Poi ditemi come si trattano i commenti, poi seguitemi su Instagram e poi... Seguitevi su Instagram, poi mi potete mandare anche le foto... Ok, allora... Non è che nella cesta qualcosa... Che video vuoi? Comunque, ora non so se è già uscito il primo episodio, però abbiamo fatto una nuova serie... Io e il mio amico ci divertiamo un sacco... ... 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